Puoi intervenire? Altrimenti... Allora... Dico subito che il mio primo tesseramento a un partito politico e ho deciso di tesserarmi a Sinistra Ecologia e Libertà proprio perché credo nel progetto politico di Niki Vendola e mi ha colpito molto anche il suo nuovo linguaggio che usa del parlare di politica per affrontare certe tematiche che ormai non sono più affrontate e soprattutto credo anche il suo obiettivo quello di riunire la Sinistra Italiana in un'unica forma